Dalla 29 luglio il Freccia Bianca si chiamerà Freccia Argento. Cambia nome l'alta velocità da Pescara Milano ed anche la tariffa, ma il servizio resta identico. L'annuncio con rammarico Feder Consumatori Abruzzo Molise che segnala come i tempi di percorrenza da Pescara Milano restino invariati, ma con un sensibile aumento dei prezzi dei biglietti da un minimo del 14% al massimo del 30%. Qualche esempio, dopo il 29 luglio da Pescara a Giulianova con il nuovo Freccia Argento si pagherà 16 euro invece che 12,50 e sull'intera tratta l'aumento sarà di 10 euro. Per arrivare a Milano con l'alta velocità serviranno 81 euro dopo il 29 luglio invece che 71, ma l'aspetto più clamoroso è l'aumento degli abbonamenti, in particolare quello da Pescara a Rimini dove si andrà a registrare un più 88%. Come dire che da Freccia Bianca si passa a Freccia Argento con i servizi di Freccia Bianca e le tariffe di Freccia Rossa. Rendendo grottesca, scrive in una nota Feder Consumatori, la differenza di prezzo del biglietto ferroviario tra chi può disporre della possibilità di scelta data dal mercato e dalla presenza dell'alta velocità e chi, come gli abruzzesi e marchigiani, ne sono privi. Quindi sostanzialmente Feder Consumatori punta il dito contro una forma di monopolio di Trend Italia che sull'alta velocità, specie nelle tratte adriatiche, fa un po' quello che vuole, nonostante sia stata, ci dice Tino Di Cicco di Feder Consumatori Abruzzo a Molise, già presentemente sanzionata in un paio di occasioni. Ed anche su questa vicenda siamo pronti, come associazione, dice ancora Di Cicco, a presentare un esposto al grante perché non vorremmo che dietro questo arbitrario aumento ci sia una sorta di operazione di autofinanziamento per l'acquisto di Alitalia. Feder Consumatori chiede anche un intervento deciso e fermo da parte delle istituzioni fino ad ora assenti. Devono far sentire la loro voce, prosegue Di Cicco, non possiamo essere solo noi come associazione a protestare nei confronti di una situazione che si fa di giorno in giorno sempre più insostenibile. La regione dov'è? Perché non avvia un confronto duro contro l'Italia pretendendo garanzie per i propri viaggiatori? Grazie. Grazie.